C'è fiducia e voglia di vincere nell'ambiente bianco-rosso. La partita con la Frattesi ha lasciato soddisfazione per la propria offerta, ma infa estidito in molti per lo sfortunato risultato. I play-off sono a 5 punti, distacco sicuramente importante, ma i bianco-rossi non vogliono mollare e cercheranno di ravvivare questo sogno, sfruttando questo momento favorevole che il calendario propone. La squadra appare in crescita nelle ultime settimane e da San Giorgio il Procida vuole ritornare alla vittoria. Di fronte i bianco-rossi troveranno una squadra decimata dalle squalifiche dopo il confronto diretto infuocato con il Forio, che ha portato alle espulsioni di Monfregolo e Caccia, che si aggiungono a disposito Kadam e Piccolo, già fermati in precedenza dal giudice sportivo. Mancherà per infortuna anche il difensore Tessitore, per cui mister Matrullo dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza. Cibelli invece rinuncerà solo allo squalificato Borrelli, ma riaccoglie con gioia il centrocampista Muro, fondamentale per il suo 4-3-3. Tuttavia il classe 94 andrà a massimo in panchina, con il tecnico bianco-rosso che dovrebbe confermare quasi l'intero 11 sceso in campo contro la frattise. Spazio quindi ancora a Petricciolo in avanti, con i fratelli Costogliola alle spalle. A centrocampo potrebbe essere riproposto Pellini, il terzetto con Vodio e Siciliano, mentre in difesa i due under, l'Iccardo e Lubrano, accompagneranno la coppia centrale ma il giro a tiro. Domani al paudice, il Procida vuole quindi riprendere proprio il seguimento, e ci prendo dei suoi una grandissima prova.